buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova video lezione sulla nascita dell'islam l'islam che nacque nella penisola arabica cerchiamo di capire un po' qual era la situazione dell'arabbia pre-islamica le notizie sono molto scarse fino al settimo secolo l'arabbia era un territorio molto difficile occupato quasi totalmente da un grande deserto soprattutto nella zona nord e nella zona centrale più prospizia all'insediamento umano era la costa meridionale la parte desertica era abitata da pastori nomadi e razziatori chiamati beduini letteralmente beduini significa figli del deserto mentre la zona restante la zona costiera la zona del sud era occupata da agricoltori artigiani e commercianti una cosa interessante da dire è che la condizione della donna subordinata a quella dell'uomo e la ponigamia erano fatti già presenti nella rabbia pre-islamica chi era maometto maometto nacque alla mecca nel 570 da una famiglia abbastanza influente a quanto pare il nonno gestiva una sorgente d'acqua e questo rendeva la famiglia agiata ed influente appunto abbiamo poche notizie sulla sua vita la fonte principale è al tabari che era uno storico persiano vissuto tra nono e decimo secolo un momento fu un mercante fino a quando sposò una ricca vedova chiamata cadigia la nuova condizione sociale quindi gli permise di smettere di lavorare i viaggi che aveva compiuto e gli incontri con ebrei e cristiani gli permisero di dedicarsi poi allo studio e alla meditazione a quanto pare nell'anno 610 ebbe una rivelazione durante una visione dell'arcangelo gabriele e così iniziò la sua predicazione nella qualità di messaggero o profeta di un unico dio alla e cominciò a condannare il politeismo molto diffuso alla mecca questa predicazione quindi del monoteismo gli procurò l'ira di chi governava in quel momento la mecca i cura ish fuggì da quella città nell'anno 622 e si rifugiò a yatrib detta poi medina cioè città del profeta questo episodio è ricordato con il nome di egira che significa fuga e segna l'inizio dell'era islamica cioè l'anno zero per gli islamici maometto in quel momento diventa allo stesso tempo un capo religioso e un vero e proprio leader politico rivoluzionario nell'anno 629 fa ritorno alla mecca e la conquista al seguito di un grande esercito riuscì poi in seguito a sottomettere anche tutte le tribù ribelli della penisola arabica e poi nel 632 muore senza lasciare eredi maschi vediamo cosa c'è alla base dell'islam innanzitutto la parola islam significa sottomissione totale a dio che viene chiamato appunto alla la parola alla significa il dio la parola musulmano significa fedele dell'islam il testo sacro dell'islam come tutti sapete il corano la parola corano significa recitazione il corano una volta appunto veniva recitato oralmente è scritto sotto il califato di otman che era il genero di maometto è scritto in forma poetica ed è diviso in 114 capitoli chiamate sure e raccoglie tutte le rivelazioni di all'ah a maometto all'interno del corano viene teorizzato il jihad cioè la guerra santa ora cerchiamo di capire bene la guerra santa viene interpretata in base alla corrente dell'islam come una lotta interiore dell'ess del fedele del musulmano contro le tentazioni oppure come una lotta contro i nemici esterni o in casi sporadici come azione di conquista dico questo perché la stragrande maggioranza di musulmani presenti nel mondo è una maggioranza moderata quali sono i cinque pilastri su cui si fonda la fede islamica innanzitutto la doppia professione di fede cioè non esiste dio all'infuori di all'ah e maometto è il suo unico profeta la preghiera individuale che si effettua cinque volte al giorno l'elemosina che deve compiere ogni buon musulmano il digiuno durante il periodo del ramadan che corrisponde al nono mese lunare digiuno che viene fatto dall'alba al tramonto questo digiuno non viene fatto dagli anziani dai bambini dalle donne che in quel momento hanno il ciclo mestruale o dalle donne incinte o comunque da chi si trova in una condizione fisica non adatta a fare il digiuno e poi il pellegrinaggio obbligatorio alla mecca almeno una volta nella vita cosa accade all'islam dopo la morte di maometto l'islam si diffonde molto rapidamente in un territorio che va dall'africa del nord all'oriente bizantino è una espansione eccezionale molto rapida e almeno per i primi secoli contrariamente a quando si crede non fu caratterizzata dalla conversione forzata degli infedeli poiché tutti i cristiani tutti gli ebrei che venivano sì sottomessi politicamente furono lasciati liberi di professare la propria religione dietro il pagamento di un tributo alcuni secoli dopo la morte di maometto i suoi detti furono raccolti nella sunna che insieme al corano è la fonte della legge islamica chiamata sharia va bene ragazzi questo vi vale come una introduzione alla nascita dell'islam prendete appunti segnate i vostri dubbi e le parole che non avete capito buon lavoro e grazie bambino